Ciao, 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 tiramento tutto a posto. Andiamo al prossimo brano, non è il precedente perché quello precedente è stato già eseguito, per una questione prettamente logica, matematica, siamo costretti a fare il nuovo brano, quello successivo è quello che è venuto prima, se volete altrimenti possiamo fare quello che abbiamo appena fatto, ma non sarebbe comunque un altro brano, io ve lo dico. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti